Gli attentati di Parigi ripropongono la questione dell'infiltrazione dei radicali islamici nei Balcani. Vienna rimane un presidio dei socialisti anche se le elezioni confermano la crescita dei populisti di Strahe. Le autorità romene vorrebbero chiudere il lebrosario di Ticilesti che i suoi abitanti però non vogliono abbandonare. La Bielorussia offre molta opportunità agli imprenditori italiani. Il successo dei Prata-Vetra, gruppo lettone che ha sfondato sul web. Gli attentati di Parigi hanno cambiato le coordinate politiche dell'Europa orientale e dei Balcani. La Russia con l'azione in Siria è uscita dall'isolamento. Dopo la tragedia del Bataclan, Europa e Stati Uniti hanno accettato la strategia perseguita dal Cremlino. Obama e Putin si sono incontrati al bar durante il vertice di Antaglia. Per il presidente statunitense è stato un caffè piuttosto amaro. I Balcani invece sono percepiti come il ventre molle dell'Europa. Preoccupa soprattutto il grande numero di estremisti islamici bosniaci e kosovari che combattono per il califato. Laris Geiser, analista geopolitico della Cattolica di Milano e presidente del movimento paneuropeo della Slovenia, sottolinea la fragilità strutturale di molti stati balcanici. Le ripercussioni saranno sicuramente anche sui Balcani, che sono un terreno altamente permeabile, composto da stati veramente divisi tra di loro, non coordinati e per di più da stati che sono o un pretutorato come il Kosovo oppure uno stato fallito come la Bosnia-Herzegovina. Secondo la polizia di Sarajevo, nelle file dell'Isis combattono o hanno combattuto almeno 300 bosniaci. Tra i reclutatori c'era anche l'imam Bilal Bosnic, un fanatico che ha predicato anche in Veneto e Lombardia. Il tribunale di Sarajevo ha condannato Bosnic a sette anni di carcere per terrorismo. In Kosovo la polizia ha arrestato alcuni imam e fermato 40 volontari tornati dai fronti siriani. In estate la polizia macedona, in una rettata, ha fermato 20 combattenti dell'Isis. A finanziare i presidi dei radicali vakhabiti in Bosnia e in Kosovo sono le monarchie arabe, mentre i radicali per arrivare in Siria si appoggiano a reti turche, tollerate e mai perseguite dal governo islamista di Ankara. Ma chi potrebbe tagliare i fili di queste convivenze? Gli unici che possono intervenire sono gli Stati Uniti d'America. Come bisogna agire per fermare il radicalismo islamico dei gruppi vakhabiti nei Balcani? Bisogna fermare i finanziamenti, bisogna fermare la massa migratoria delle persone e bisogna ovviamente portare avanti un'azione di intelligence coordinata che non sia lasciata solamente alle intelligence locali, ma bensì coordinata da quelle europee come aiuto bilaterale gli uni con gli altri. Non c'è altro moto, altro metodo e altro sistema. Per di più bisogna fare dei campi rifugiati in loco nel Medio Oriente, in Siria e in Iraq. Grecia, Macedonia, Serbia, Croazia e Slovenia sono paesi che subiscono una grande pressione da parte delle migliaia di profughi che per sfuggire alla violenza dell'Isis cercano rifugio in Germania o Scandinavia. Portare una massa di migranti significa finanziare l'Isis in loco, significa destabilizzare l'Europa a breve termine, come abbiamo visto nei Balcani hanno iniziato a litigare tutte le varie nazioni e sul lungo termine dal punto di vista sociale europeo. Ma l'Europa può permettersi di non aiutare i profughi che sono le prime vittime della violenza dell'Isis? No, ma la violenza che subiscono è un fattore geopolitico, bisogna risolvere il fattore geopolitico, aiutare le persone sì ma in loco, comprendendo che l'Isis si finanzia attraverso il commercio delle persone e vuole anche una pulizia etnica in loco, allora noi non possiamo permettere la pulizia etnica nella regione della Siria e dell'Iraq, quindi portare tutti i possibili aiuti finanziari e tecnici in Siria e in Turchia e scremare le persone all'entrata prima che entrino in Europa, favorendo ovviamente l'entrata delle persone che hanno le possibilità legali di essere rifugiati politici. L'Italia schiera contingenti militari e unità di polizia e carabinieri sia in Bosnia sia in Kosovo. Per il processo a Bosnic c'è stata una buona collaborazione tra la procura di Sarajevo e la magistratura italiana. Dopo i sanguinosi attentati di Parigi ai dubbi si alternano le domande, spesso senza risposta, sulla violenza come arma politica, sui precari equilibri mondiali, ma anche sulle moltitudini che risalendo i Balcani arrivano in Occidente. Potrebbero occultare terroristi e questo è il quesito più inquietante. Ce l'abbiamo girato a Carlo Mastelloni, procuratore capo Trieste, autore di importanti indagini sui rapporti fra Brigate Rosse e Palestinesi, uno dei maggiori esperti di terrorismo medio orientale. Fino a quando c'è una componente musulmana che viene dalla Bosnia e dal Kosovo c'è sempre il rischio. L'equazione terrorismo-immigrazione quindi ha motivo di venire declinata? Ci può essere una su un milione di possibilità che, almeno per i gruppi organizzati, poi se un pazzo si imbarca al sud o entra a piedi con altre masse in transito, questo non è calcolabile e direi che non abbiamo un termometro adatto per misurare queste eccezionalità. Rimane il problema scottante del presente, del prossimo futuro e delle sue insidie e di come si può venirne fuori. Siamo in un chiude sac, nel senso che se io prevedo che ci sarà qualche altra cosa del genere, la situazione diventa insostenibile. diventa insostenibile nella misura in cui non abbiamo forse la forza di coordinarci. Se ci coordiniamo tutti insieme, affrontiamo i sacrifici minimi, i sacrifici di libertà, prendere l'aereo, essere controllati e il monitoraggio diventa sempre più analitico, forse riusciamo a vivere un po' meno drammaticamente. In Repubblica Ceca, il 17 novembre, sono stati commemorati due anniversari, la rivoluzione di Belluto che rovesciò il regime comunista e l'anniversario della repressione nazista del 1939 contro gli studenti e i professori cechi dell'Università Carolina. A scatenare vivaci polemiche è stata la decisione del presidente Miros Zeman di partecipare ad una commemorazione promossa dal blocco anti-islamico e da organizzazioni che vogliono chiudere il paese all'immigrazione. Il municipio di Vienna resterà governato da socialdemocratici e verdi anche per i prossimi cinque anni, ma alle recenti elezioni comunali i viennesi hanno premiato soprattutto Heinz Christian Strache, leader dei Freiheitliche nel partito nazionale liberale e oggi oltre il 30% con un balzo di cinque punti. I consensi vengono dai quartieri popolari. Simmering, vicino alle fabbriche del sud della città, era un bastione della Vienna Rossa in passato. Oggi la maggioranza dei suoi abitanti dà fiducia ai nazionali liberali. Hanno tutti paura che gli stranieri ci portino via i posti di lavoro. Secondo me hanno fatto poco per gli austriaci e invece molto per gli stranieri. La gente qui vede che non si fa nulla contro l'islamizzazione. Sono i pregiudizi, esempio, tutti i turchi fanno chiasso. Ci sono troppi stranieri e la gente non li vuole. A Vienna stranieri ce n'è da sempre. Si stima che siano ormai oltre il 20% dei suoi 1.350.000 abitanti. Ma il flusso di questi ultimi mesi è impressionante. Dal settembre scorso la stazione centrale è punto di arrivo e partenza per migliaia di profughi ogni giorno. Molti viennesi si sono mobilitati per aiutarli, ma molti di più si sentono minacciati. In un primo momento i profughi sono stati accolti bene. Disfiace però vedere come poi, quando ci si è resi conto che siamo davanti a una massa davvero enorme, ci sia stata una svolta. schwenk machen. Manfred Staub gestisce da mezzo secolo lo Schperl, uno dei tradizionali caffè viennesi. Non è certo tra un cappuccino e una fetta di torta che si fanno le grandi analisi politiche, ma è qui che si captano gli umori della gente, le lamentele contro tutto e tutti e in questo periodo contro migranti e profughi. E il signor Manfred ne sente tante, ogni giorno. Succede che i discorsi da bar, chiamiamoli così, diventano titoli gridati sui giornali. Il pubblico ci si riconosce, questo è il motivo per il quale il partito nazional liberale ottiene così tanti voti. Il governo rosso-verde ha potenziato i trasporti pubblici, pedonalizzato importanti strade, continuato il programma di edilizia popolare. Vienna è considerata una delle capitali più sicure d'Europa, con un'alta qualità dei servizi. È però il tema degli stranieri e dei profughi a dominare il confronto politico e a sostenere la destra xenofoba. Mancato l'obiettivo di conquistare il municipio di Vienna, il partito di Strache potrebbe cogliere quello molto più importante conquistare la maggioranza al Parlamento. Tichilesti, Romania, 290 km a nord-est di Bucharest. Tichilesti è uno degli ultimi lebrosari in Europa. Qui vivono 14 anziani, colpiti in gioventù dal morbo di Hansen, la lebra, e relegati in questa quarantena. Tichilesti è separato dal resto del mondo. I suoi abitanti coltivano orti, badano alle galline. Ci sono due chiese, una ortodossa, l'altra battista. Le autorità romene vorrebbero chiudere il lebrosario, ma i vecchi rimasti non vogliono abbandonare Tichilesti. Romeo Nedelcu, il pastore della chiesa battista, ha 71 anni e dal 1961 vive nel lebrosario. Spesso mi sono posto la domanda perché ero tra quelli che dovevano soffrire. Ogni persona vuole essere sana, probabilmente è la cosa che desideriamo di più, però quando ho capito che Dio aveva un piano per me, per salvarmi, ho trovato un equilibrio interiore. Mi sono convinto di essere un privilegiato, non un perdente. Anche Dominika Mishkov, settantenne, non vuole lasciare Tichilesti. Perché vivo a Tichilesti? Qui sono nata. I miei genitori sono arrivati qui da posti lontani. Mio padre dalla Russia, mia madre dalla regione di Arges. Erano giovani, qui si sono conosciuti e sposati. Anche i lebrosi possono innamorarsi e il frutto di questo amore sono io. Il morbo di Hansen è una malattia infettiva e cronica, però curabile, causata da un batterio che colpisce la pelle e i nervi periferici in vari modi e gradi, anche molto invalidanti. I pazienti perdono la sensibilità dei nervi periferici e per questo non si accorgono di eventuali ferite che poi si infettano. Vasilika Iene, da 30 anni, vive con i sintomi della malattia. I suoi figli, però, sono sani. Mi ricordo che giocavo con i bambini e su una gamba avevo una piaga. La ferita sanguinava, ma io non sentivo niente. Sono stati bambini ad avvertirmi. La ferita era profonda. Sono andata in ospedale. Un'infermiera mi medicò. Io ridevo. Lei allora disse di non aver mai visto nessuno ridere con una ferita così profonda. A badare e aiutare gli anziani di Tichilesti sono un'infermiera e Alex Vasiliu, medico che dal 1991 lavora nell'Ebrosario. Questo ospedale continuerà ad esistere finché ci saranno persone con questa malattia. Negli ultimi anni non ci sono stati nuovi pazienti e per questo sicuramente questo luogo cambierà. Il dottor Vasiliu spiega che nel 1998 c'erano 39 pazienti, 22 nel 2002. Oggi sono solo 14. In Italia ogni anno si registrano dai 6 ai 9 casi di morbo di Hansen. Sanatori, centri e ospedali specializzati nella cura di questa malattia esistono a Genova, Cagliari e Gioia del Colle. Quando nasceva il gruppo la Lettonia nemmeno esisteva. Era 1989, 26 anni fa, più di un quarto di secolo al vertice della scena musicale del piccolo paese baltico. Si chiamano Prata Vetra, conosciuti anche con la traduzione inglese di Brainstorm. La loro notorietà è andata anche oltre i confini della Lettonia e ha toccato il punto più alto nel 2000, quando la band è arrivata sul gradino più basso del podio del prestigioso festival della canzone europea con il brano My Star. L'incontriamo poco prima delle prove di uno spettacolo televisivo. Sono splendida forma, in gran sintonia l'uno con l'altro. Tant'è che viene subito da chiedersi qualsiasi è il segreto di un rapporto così stretto a distanza di così tanto tempo. Il nostro segreto? Ecco, te lo mostro. Credo che il segreto sia che facciamo quello che amiamo fare. Questa è la magia. Un legame stretto 3-4, solido tra alti e bassi e un solo brevissimo divorzio. Ricordate, 4-5 anni fa abbiamo avuto un piccolo divorzio per una notte, ma quando ci siamo rivisti la mattina abbiamo detto no, non è ancora arrivato il momento. Tanto che sembra un matrimonio in loro, una sorta di seconda famiglia. In effetti ci manca solo l'anello, però adesso che ci penso ricordo che ne abbiamo avuto uno tutti assieme. Ricordate, sull'orecchio. Eravamo sulle isole Faroe. Un caso particolare in loro, conosciuti all'estero nonostante cantino perlopiù in una lingua parlata da appena due milioni di persone. Tutto è cambiato quando hanno cominciato a scrivere in inglese. 1996 o 7. Abbiamo capito che siamo un bel paese, ma piccolo. Fai un tour con 10 concerti, poi ne ricominci un altro ancora con 10 concerti negli stessi posti. Ci sono esempi come i Sigur Ros, che cantano in una sorta di lingua dell'immaginazione, ma non è il nostro caso. Il festival della canzone europea è stata la nostra svolta. Anche prima andavamo all'estero a suonare, ma dopo è cambiato tutto. Abbiamo potuto lasciare i nostri lavori precedenti. Uno era cameraman, uno DJ, due lavoravano in tribunale. Quattro lavori normali, prima del grande successo. Del resto sono pochi coloro che in Lettonia possono vivere solo facendo musica. Quando gli chiediamo quanti anni abbiano ancora intenzioni di suonare, ci scherzano volentieri su, cercando di leggere sul palmo della mano, ma la data della fine ancora non la vedono. L'italiano, per molti bambini bielorussi e anche per chi oggi è giovane studente o già affermato professionista, è la lingua del cuore, solido il rapporto che lega i due paesi. L'Italia si conferma uno dei principali partner economici della Bielorussia. E al momento è il sesto, tra il sesto e il settimo, maggiore partner commerciale. I prodotti italiani sono apprezzati in Bielorussia. Il settore del design, del mobile, della moda, ma anche il settore della tecnologia. Diciamo, l'Italia offre alla Bielorussia moderne tecnologie e quindi contribuisce anche all'evoluzione e alla modernizzazione del suo sistema produttivo. Il Made in Italy è cucina e fashion tra i ristoranti più trend, alberi di sfavillanti, serate mondane. Praticamente è la manifestazione più importante, più attesa da coloro che sono gli operatori del mercato del fashion made in Italy. Riteniamo di aver portato un po' anche il nostro contributo, tanto che il Made in Italy nel settore fashion ha aumentato le esportazioni verso la Bielorussia dall'Italia nel 2013 di circa 33% e nel 2014 del 25%. La cucina ci difendiamo abbastanza bene anche qua in Bielorussia, vari chef italiani che sono qua. Siamo tutti quanti dei piccoli ambasciatori della cultura enogastronomica italiana in Bielorussia. Un piatto tipicamente italiano a volte va rivisitato, ma non stravolto. Knoau è il fondamentale ruolo di ponte di collegamento con la Russia, considerando l'embargo. Hanno indotto imprenditori ad avviare attività per produzione e vendita di materie prime. La Bielorussia fa parte della federazione russa, della cosiddetta CSI e quindi producendo all'interno della Bielorussia non vi sono dogane e non vi sono dati da pagare e quindi è un valore aggiunto per i nostri clienti, soprattutto russi, e soprattutto abbattiamo anche i costi di trasporto dall'Italia per la Russia perché diventa metà strada, sono solo mille chilometri da dove operiamo per arrivare al mercato di Mosca o di San Pietroburgo. In Bielorussia, col cambio favorevole, hanno scelto di vivere da tempo molti italiani imprenditori o anche pensionati. Io dico che il momento è giusto per poter arrivare in questo paese. Il paese, sia con la moda, sia con la ristorazione, sia con tutto il Made in Italy, quello che è Made in Italy in questo paese sta andando veramente bene, molto molto bene. Il ponte Italia-Bielorussia è destinato ad essere sempre più percorso per chi fa del Made in Italy non soltanto uno slogan ma esperienza e spirito d'iniziativa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.